Dopo aver investito negli ultimi sei anni 11 milioni di euro in interventi per lo sviluppo del porto e di altre infrastrutture di Viareggio, il presidente della regione toscana Enrico Rossi ha firmato un protocollo d'intesa con il sindaco Giorgio Del Ghingaro per finanziare con 7 milioni e 300 mila euro altre opere e partecipazioni. Ora la cosa nuova e importante è che il comune ha rilevato l'azienda Viareggio Porto e quindi c'è un'intesa tra noi e il comune per costituire una società specifica che gestisca le aree demaniali e che possa ricavare anche degli utili che potranno a sua volta contribuire a mettere il porto in condizione di maggiore efficienza, bellezza, fruibilità. Dopo l'acquisizione da parte di Icare, una nostra società interamente posseduta dal comune di Viareggio, c'è ora un piano, un progetto chiaro di sviluppo e soprattutto la cosa più importante dove e come attingere le risorse necessarie per far rivivere in maniera positiva il porto di Viareggio e tutta l'area circostante. La regione toscana sta portando avanti anche altre operazioni sul porto di Viareggio come il sabbio d'otto da 5 milioni di euro che consentirà di evitare le spese annuali di escavo, la gara in programma per il 2020. Nuove conferme anche per la manifestazione Versilia Yachting Rendezvous. Firmeremo con la società che realizza Versilia Yachting Rendezvous l'accordo per il mantenimento qui, nel prossimo triennio, di questa importantissima iniziativa e anche questo significa un contributo da parte della regione di circa 400 mila euro. Grazie a tutti.